ecco che è partita la diretta e buonasera a tutti questa sera qua sulla sulla pagina di Tecnozoo parleremo di un argomento attuale perché comunque tutti noi in questi giorni avremo a che fare con la raccolta dei foraggi in questi giorni intendiamo fra un mesetto circa insomma dipende dalle zone d'Italia però al sud Italia forse le raccolte sono un po' più anticipate qui al nord avranno fra un mesetto magari o qualcosa di più vedremo in collegamento abbiamo il dottor Corradini Francesco Corradini che in Tecnozoo si occupa di tutto l'aspetto dei prodotti high tech e quindi anche degli inoculi batterici e chimici da utilizzare per la conservazione degli insilati e dei fieni questa questa esperienza di Tecnozoo sulla conservazione dei appunto degli alimenti poi da somministrare alle vacche nasce in seguito alla collaborazione con una ditta multinazionale tedesca la Atcon che tra l'altro io e Francesco abbiamo avuto anche modo di visitare un paio d'anni fa anche altri di Tecnozoo hanno visitato però mi ricordo quando si poteva ancora girare ecco che siamo andati a far visita allo stabilimento e siamo stati veramente positivamente impressionati in quanto la tecnologia applicata è veramente importante noi ci affidiamo allora appunto per la fornitura degli inoculi batterici e anche degli additivi chimici e faremo una distinzione questa sera a proposito a proposito di questo da utilizzare appunto negli alimenti che poi somministriamo alle nostre vacche ecco tanto controllo quando abbassa lo sguardo perché controllo se arrivano dei commenti o delle domande a cui rispondere niente tutto tranquillo ecco appunto per entrare un po' nel tema della serata io solitamente parlo con diversi tipi di allevatori agricoltori in giro un po' per tutto il nord Italia e sento opinioni molto diverse a proposito dell'utilizzo di questo tipo di prodotto allora c'è chi assolutamente non usa assolutamente niente non usa non utilizza prodotti né chimici né microbiologici per la conservazione degli insilati si trova bene così c'è chi li utilizza però tutto sommato non riesce a quantificare bene i risultati e c'è invece chi li utilizza ed è entusiasta di utilizzarli perché ha visto che con l'aggiunta di inoculi batterici o conservanti la qualità degli alimenti poi si è amministrati alle vacche è decisamente superiore quindi io vorrei porre a voi una domanda all'inizio così di questo dibattito chi ha ragione di queste tre di queste tre figure quindi chi non utilizza assolutamente niente chi li utilizza però non riesce a misurare bene i risultati e chi li utilizza perché ha visto dei risultati incredibili io penso che ci sia una verità dietro ognuna di queste di queste espressioni perché probabilmente le esperienze sono state diverse ma perché sono state diverse perché i parametri da valutare nell'utilizzo di questi tipi di prodotti sono molteplici e non sono molto semplici da individuare e appunto questa sera con il dottor Corradini vorremmo individuare quali sono i parametri fondamentali da considerare per utilizzare il prodotto giusto perché forse in alcuni casi il dottor Corradini ce lo dimostrerà se il prodotto non è corretto il risultato non ci sarà ma lo sappiamo a priori non c'è bisogno di provarlo lo sappiamo subito perché sono dei dati di umidità di contenuto zuccherino piuttosto di potere tampone degli alimenti che fanno la differenza gli inoculi batterici devono essere utilizzati in un certo modo devono essere utilizzati con il substrato da fermentare perché se il substrato non riesce a fermentare in maniera corretta questi non daranno risultato le umidità quindi ci sono dei fattori di di fermenticibilità di ogni alimento che determinano l'utilizzo di un prodotto piuttosto che di un altro io lascerei a questo punto la parola a francesco dottor Corradini che ci spiega appunto più nel dettaglio di cosa stiamo parlando qual è l'offerta di tecnozoo per quanto riguarda questi prodotti la consulenza chiediamo perché è importantissimo utilizzare il prodotto giusto non mi stancherò mai di ripeterlo francesco ti lascerei la parola se è tutto pronto so che hai anche qualche qualche diapositiva da far vedere se riesci a condividere lo schermo riusciamo a capire meglio grazie giuseppe intanto buonasera a tutti allora io appunto come diceva giuseppe ho alcune slide che ho preparato per un attimino vedere di argomentare e di rispondere a queste domande che giuseppe ha giustamente posto dovremmo esserci sta caricando ecco ecco perfetto partito siamo pronti mentre stavamo facendo le prove prima alle esattamente alle 20 e 28 20 e 29 non riusciamo più si è bloccato tutto non riusciamo più a cambiare le diapositive quindi adesso abbiamo risolto e va bene ce l'abbiamo allora come aveva come anticipato giuseppe noi come tecno zoo ci siamo affidati al nostro partner commerciale che ad con ditta ditta tedesca cresciuta nel settore della green chemistry con quasi ormai un secolo di di vita e di storia e di comunque di esperienza sul campo e la sua particolarità è che è un'azienda appunto suddivisa in quattro in quattro diverse branche che appunto chiamate division e c'è la componente feed la componente food la componente di de icing quindi lo sghiacciante da utilizzare sulle ali degli aerei durante il periodo invernale e la sezione per quanto riguarda gli additivi per la trivellazione petrolifera voi direte cosa c'entra il comparto feed che è quello che riguarda noi quindi per la conservazione dei foraggi con il decongelamento delle ali degli aerei piuttosto che per gli impianti petroliferi loro tutto tutta la loro sapienza ruota attorno a quello che è la chimica dell'acido formico fondamentalmente dell'acido propionico che vengono utilizzati appunto in maniera diversa su questi quattro settori che sono dei settori che fondamentalmente non hanno niente da cui da condividere quindi questo è un po' il nostro partner con cui ormai è più di dieci anni che collaboriamo e che ci affianca stagione dopo stagione nell'aiutare i nostri clienti quindi allevatori e agricoltori nel trovare quella che è la soluzione ideale per la conservazione degli insilati e dei foraggi in generale partendo proprio dalla base 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 qui c'è un piccolo inizio dove appunto riportiamo che cos'è un insilato quindi un prodotto di una tecnica di conservazione del foraggio che si realizza per acidificazione della massa vegetale ad opera di microorganismi anaerobi allo scopo di impedire a microorganismi alteranti e potenzialmente tossici di proliferare all'interno della massa vegetale provocando nel consumo quindi la perdita del valore nutritivo e lo sviluppo scusate di sostanze insalubri l'insilamento quindi è la tecnica che consiste nello stesso mi dicono che non si vedono le slide da facebook non capisco il motivo però c'è qualcosa che non... sono tornate? no c'è qualcuno che sta... vediamo un po' se riescono a sistemare vediamo se riescono a condividere direttamente riescono a condividere direttamente da tecnozoo adesso mi stanno dicendo condividono direttamente vediamo se... ecco infatti mi riportano ora si vedono mi dicono ora si vedono sì ok ora si vedono ok ma non sono io che controllo va bene controlla a voce di cosa devono fare che lo faranno puntualmente tornare indietro per cortesia eccoci qua perfetto quindi ritornando a dove eravamo arrivati l'insilamento quindi è una tecnica che consiste nello stoccaggio della massa vegetale in particolare i contenitori chiusi quindi in silo tradizionali anche più semplici e diffusi in silo sale aperto a forma di bunker quindi le cosiddette trincee costituite da piattaforme di calcestruzzo vabbè sappiamo tutti cos'è un bunker dove il foraggio sminuzzato viene compattato ed infine sigillato da un telone di materiale plastico isolante dall'aria allora in quello che può sembrare qui inizialmente è una definizione molto banale dell'insilamento però ci sono delle cose che è fondamentale sottolineare che dopo andranno come vedremo andranno a far parte di quello che è un po' la diciamo il modus operandi ideale per ottenere un insilato di qualità cioè il fatto di appunto escludere l'aria il fatto di tagliare il foraggio della giusta grandezza la compattazione e appunto la copertura con il materiale plastico procediamo con la prossima slide grazie allora sempre parlando dell'insilamento quali sono i punti focali per procedere con un corretto insilamento e quindi una conservazione ottimale allora ci sono dei fattori che non si possono controllare sono la flora epifitica presente sulla pianta che già è sassiata è successo qualcosa ancora probabilmente ha una connessione scarsa e non riusciamo a sentirlo più comunque stava appunto dicendo che intanto che vediamo se riesce a ricollegarsi comunque stava appunto valutando il fatto che ci sono dei fattori che ognuno di noi che è in sila può controllare e altri che non possono essere controllati i fattori che si possono controllare sono quelli della flora epifitica cioè quella presente sulla pianta sulla pianta naturalmente quindi sono batteri lattici fondamentalmente questi qua non possono essere controllati tant'è che se arriva una piovuta una pioggia appena prima della trinciatura sicuramente la flora sarà dilavata e di conseguenza a maggior ragione sarà utile utilizzare degli inoculi batterici altri fattori che non possono essere controllati sono il contenuto di zuccheri all'interno della pianta quindi ci sono culture che si adattano più facilmente all'insilamento quelle più alte di contenuto zuccherino ed altre che invece si adattano meno il clima ovviamente non possiamo controllarlo ecco e quindi anche la normale perdita di nutrienti durante la lavorazione il taglio e la raccolta sicuramente crea un piccolo deterioramento e va ad inficiare la sostanza finale raccolta quindi c'è una perdita invece che posso controllare che cos'è l'epoca di raccolta beh più o meno si può controllare perché poi si sa che i terzisti possono arrivare in quei periodi di grosso lavoro possono arrivare in anche in ritardo però indicativamente possiamo controllare questi fattori il taglio corretto ovviamente e l'esclusione dell'ossigeno dalla pressatura perché è fondamentale l'insilamento cos'è è una tecnica di conservazione anaerobica quindi dobbiamo rendere la nostra massa in condizioni di anaerobiosi tant'è che noi utilizziamo i teli mettiamo schiacciamo la pressatura è importantissima e comunque i nostri specialisti in tecnozoce lo spiegano continuamente ecco quindi dobbiamo ricavare in questa in questa massa delle condizioni anaerobie quindi in assenza di ossigeno dobbiamo controllare le fermentazioni in tutte le preparazioni di tipo alimentare passando dalla caseificazione fino ai salumi vengono utilizzati degli starter batterici starter batterici che hanno la funzione di andare a individuare quei batteri che sono funzionali alla conservazione dell'alimento e di conseguenza andiamo ad aggiungere all'inizio per stimolare la fermentazione affinché il pH venga abbassato repentinamente e prendono il sopravvento rispetto a muffe a lieviti che invece hanno un effetto negativo sulla conservazione degli alimenti quindi noi andiamo ad aggiungere questo tipo di prodotto che sono i batteri lattici fondamentalmente dal punto di vista dell'inoculo chimico di cui sto parlando intanto se volete andare avanti con le diapositive vediamo Alice se riesce ecco quindi noi dobbiamo durante la conservazione dei foraggi nella tecnica di conservazione dirigere verso la fermentazione anaerobica quindi eliminare l'ossigeno evitare la perdita di nutrienti se vuoi andare alla slide successiva Alice ecco e quindi ecco è sempre è sempre su questa slide è sempre spiegato questo concetto appunto di arrivare alla fermentazione anaerobica evitare che ci sia perdita di nutrienti perché perché in alcuni casi con delle fermentazioni sbagliate quindi nelle fermentazioni anobili si arriva a delle perdite di nutrienti e soprattutto di sostanza secca che è anche del 10-15% nei casi peggiori ed ecco che lì forse sta tornando anche il dottor Corradini ci sono ecco sei arrivato io ho cercato di sostituirti ma non sono al tuo livello quindi ho cercato di fare il meglio cercando di andare avanti un po' con le diapositive siamo arrivati a un paio di diapositive avanti rispetto a dove hai arrivato tu ecco siamo arrivati alle cose che non vogliamo fare ecco che non vogliamo fare bravo perdere perdere nutrienti ho detto che bisogna arrivare ad una ad un tipo di fermentazione anaerobica quindi eliminare l'ossigeno dalla massa come lo eliminiamo sigillando bene schiacciando e poi aiutando questa partenza questo starter con dei batteri lattici in questo caso che sono i batteri i minoculi biologici poi parleremo anche di quelli chimici ma ne parlerei tu successivamente quindi per farti un po' di assunto durante la tua assenza ecco perfetto ottimo allora possiamo pure procedere ecco appunto come giustamente diceva Giuseppe come possiamo intervenire quindi per poter ottenere il miglior insilato da dare alle nostre vacche possiamo intervenire innanzitutto con la corretta tecnica di insilamento perché se è un punto da cui non possiamo prescindere la tecnica di insilamento è fondamentale per avere comunque un diciamo per raggiungere quello che è più del sai politico se lo mettiamo in termini di valutazione scolastica dopo di che se vogliamo effettivamente fare il salto di qualità e riuscire ad avere una conservazione ottimale e quindi preservare i nutrienti per poter dopo appunto dare un insilato quindi una componente dell'opo dell'unifid più ricca alle nostre vacche ed avere delle performance migliori dobbiamo per forza di cose richiedere un piccolo aiuto e lo possiamo fare o tramite additivi chimici quindi tramite sali o piuttosto che acidi oppure con degli additivi biologici che sono appunto dei microrganismi in questo caso nel caso nostro appunto stiamo parlando di lato bacilli in entrambi i casi si può lavorare in due direzioni cioè migliorare le fermentazioni quindi lavorando sull'inibizione della crescita di batteri dannosi vedi clostridi oppure migliorando la stabilità aerobica inibendo lo sviluppo di muffe e di lieviti ecco quindi come vado a scegliere l'additivo corretto noi abbiamo diciamo ricostruito questa tabella che è un po' il un riassunto di quelle che possono essere le casistiche che vengono su cui ci possiamo fondamentalmente scontrare o imbattere nell'agricoltura qui in Italia allora nella nella prima colonna sono riportate tutte le diversi diversi tipi di coltura mentre nella parte alta dove vedete il numero che va avanti a blocchi di 5 è la percentuale di sostanza secca presunta al momento della conservazione quindi al momento dell'insilamento piuttosto che della produzione del ballone allora i diversi colori sono i diversi prodotti della della nostra gamma che vanno a coprire un po' quelle che sono le tutte le casistiche che appunto dove che che incontreremo nelle diverse zone d'Italia e nelle diverse stagioni quindi abbiamo dei lattobacilli quindi degli additivi biologici e degli additivi chimici se guardate questa questa tabella si può vedere seguendo un po' i colori adesso ve la farò breve io senza che vi fermate a guardare riga per riga ma le due parti estreme di questo di questo grafico quindi dove c'è una umidità molto alta e quindi si parla di una sostanza secca del 20% piuttosto che un'umidità molto molto bassa quindi con una sostanza secca diciamo maggiore dell'80% questi qua sono i due territori di elezione per gli additivi chimici in mezzo a questi due intervalli invece si può lavorare sia con l'additivo chimico che con il lattobacillo questo qua perché il lattobacillo è un organismo vivente l'organismo vivente come qualsiasi appunto forma di vita ha bisogno di acqua per poter sopravvivere se c'è un minimo di acqua il lattobacillo sopravvive e si mette in moto e inizia a lavorare e a fare quello per cui fondamentalmente l'abbiamo utilizzato quindi fermentare gli zuccheri per ottenere quelle che sono le sostanze per noi molto importanti e interessanti appunto per la conservazione quindi la produzione dell'acido lattico piuttosto che dell'acido acetico a seconda del tipo di lattobacillo utilizzato dove però c'è troppa acqua quindi stiamo sul lato sinistro del diagramma ovviamente lì la situazione è troppo è troppo per i nostri lattobacilli che verrebbero fondamentalmente andrebbero in difficoltà nell'acidificare tutta quella massa quindi in quel caso lì per dire l'utilizzo è assolutamente d'obbligo appunto l'utilizzo di un additivo chimico come nel caso invece di una sostanza secca molto elevata lì c'è troppa poca acqua per sopravvivere e quindi anche lì si utilizzerà un altro tipo di additivo chimico quindi come potete chiaramente intuire da questo grafico la scelta del prodotto del conservante da utilizzare è molto importante perché non è che utilizzarne uno piuttosto che un altro va bene dici tanto l'ho utilizzato quindi avrò un risultato buono assolutamente no la scelta importante da fare è uno in base al al tipo di coltura che andremo a conservare quindi valutare innanzitutto se è una coltura con un alto tasso di zuccheri piuttosto che un alto tasso di proteina e quindi nel primo caso per dire banalmente insilato di mais piuttosto che di sorgo oppure si parla di un prodotto con una proteina molto alta parliamo quindi di erba medica quindi questo è il primo discriminante sapere fondamentalmente cosa noi andiamo a conservare il secondo passo è capire quale è la presunta sostanza secca perché in base a quella che è la presunta sostanza secca noi andremo a fare una scelta che può essere quella del lato bacillo piuttosto che dell'additivo chimico ti interrompo un attimo solo per ricordare che all'inizio avevamo posto un quesito delle tre persone che utilizzano o non utilizzano il trattamento c'è chi non utilizza assolutamente niente nella conservazione c'è chi l'utilizza ma vede pochi risultati c'è chi l'utilizza ed è entusiasta e quindi ci sta chiarendo un pochettino quali sono i passaggi da valutare sta cominciando a fare un po' di chiarezza perché l'inoculo o l'additivo chimico utilizzato in condizione di umidità sbagliato assolutamente non darà risultato quindi è qualcosa che noi sappiamo già dall'inizio non c'è bisogno nemmeno di fare la prova va collocato in maniera corretta e adesso abbiamo preso in considerazione un punto stai parlando adesso poi dell'aspetto zuccherino e dell'aspetto dell'apporto di proteina degli alimenti quindi ad ogni alimento il giusto additivo questo è un messaggio che deve passare perché se no si rischia di prendere delle fregature e i risultati assolutamente non verranno poi ti lascio andare avanti era giusto per così per fare un po' il punto della situazione perché ho capito che in queste dirette le persone vanno e vengono e quindi chi si collega adesso non sa nemmeno di cosa stiamo parlando recuperare ogni tanto i concetti può essere utile giusto perché chi si collega anche solo per 5 minuti riesca a portare a casa qualcosa di utile insomma non vedo solo due qua che si raccontano su un po' di un po' di cose ma porti a casa qualcosina ti lascio andare avanti Francesco no comunque come giustamente hai posto hai posto la domanda correttissima all'inizio fondamentalmente chi dei tre agricoltori allevatori barra allevatori ha ragione in realtà allora anche chi non utilizza il lato bacillo lui ti dirà sì ho comunque fatto un insilato di buona qualità e effettivamente non gli si può dire niente non gli si può dar contro perché effettivamente ci sono tanti insilati per dire tornando un esempio semplice insilati di mais che effettivamente vengono bene li vedi non scaldano hanno un buon odore perché appunto non ci sono muffe non hanno fatto il cappello non hanno fatto il classico scolo sulla trincea e quindi ti diranno ma perché perché come dicevo prima la tecnica di insilamento è effettivamente una delle componenti fondamentali quello che però non si vede è la qualità dopo della massa conservata gli additivi chimici ci permettono di selezionare gli additivi chimici come anche scusate i biologici ci permettono di selezionare quelle che sono le effettive fermentazioni e evitare di avere una perdita dei nutrienti quindi il nostro insilato sarà oltre che bello sarà anche effettivamente di qualità superiore e questa qualità superiore in primis ce lo diranno le vacche perché avranno meno problematiche a livello metabolico avranno il prodotto che gli verrà dato avrà un'appetibilità sicuramente molto maggiore quindi avranno un'ingestione più alta e il tutto si tramuterà ovviamente in una produzione più alta di latte procediamo con la prossima slide vedo qua una non è una domanda è una considerazione di Michele Dascagno che dice che ha usato il Coffasil Duo sul Ludwig quindi sul frumento Ludwig e si è trovato bene io penso che sì assolutamente si sarà trovato bene perché è il prodotto il prodotto corretto il Coffasil Duo quindi una miscela di batteri lattici usato su un prodotto a tenore zuccherino non elevatissimo non a livello del pastone però insomma qualcosa c'è con la con la giusta con la giusta umidità quindi penso che sia stato consigliato in maniera corretta da in maniera corretta dal nostro collega insomma non so chi chi segue all'interno del TecnoZo questo signore dal punto di vista tecnico però mi darai conferma insomma ha collocato il prodotto giusto sull'alimento giusto l'ha collocato e se adesso andiamo avanti all'interno della slide con le successive caselle qui vediamo effettivamente possiamo spiegare anche come c'è il motivo per cui il Coffasil Duo per dire è stata una scelta una scelta corretta allora il Coffasil Duo è un prodotto appunto un additivo biologico che presenta tre diversi ceppi due di Plantarum di Lactobacillus Plantarum uno di Lactobacillus Bucneri il Lactobacillus Plantarum nel caso specifico è un Lactobacillus Homofermentativo quindi partiamo da lo zucchero per poi arrivare alla produzione di acido lattico questo permette di avere una un repentino abbassamento di pH e portare quindi appunto all'inibizione della dello sviluppo dei clostridi e quindi l'inibizione di quei microorganismi che porterebbero ad un abbassamento della qualità perché il clostridio dopo porta appunto ad un discorso di tossina un discorso di acido butirrico ha un odore sgradevole dopo per la vacca e quindi ha un'ingestione più faticosa se non proprio appunto nei casi peggiori a dover rinunciare all'utilizzo dell'insilato e quindi nel caso dell'appunto del del frumento dove c'è stato eravamo in una situazione intermedia di sostanza secca e dove c'era un quantitativo non altissimo appunto cioè un buon quantitativo ma non non elevato come sorgo e mais di appunto zuccheri la scelta del cofasil 2 è stata sicuramente una scelta vincente in quanto appunto da questo lato hanno lavorato i due ceppi di plantarum mentre in un secondo momento ha iniziato a lavorare anche il bucneri perché ha un meccanismo di attivazione un pelo più lungo considerato che è un etero fermentativo quindi ha il doppio passaggio perché dallo zucchero produce acido lattico e dopo dall'acido lattico va a produrre l'acido acetico che è quello che ci fa da conservante per fondamentalmente abbassare la temperatura della trincea e per inibire lo sviluppo di muffe e di lieviti quindi ricollegandomi a quello che è un po' questo schema fondamentalmente noi dobbiamo partire con la prima idea cosa voglio fare migliorare le fermentazioni o migliorare la stabilità aerobica col cofase 2 si può fare entrambe devo considerare la sostanza secca in base alla sostanza secca posso dividere fondamentalmente in quelli che sono i tre spezzoni vado appunto a scegliere l'additivo chimico piuttosto che l'additivo biologico piuttosto che un altro additivo chimico sotto dovrebbero comparire anche i nomi dei diversi eccoli qua quindi appunto dove c'abbiamo una sostanza secca bassa quindi un'alta umidità c'abbiamo cofase liquid piuttosto che age con 2 dove abbiamo una situazione di intermedia c'abbiamo tre diverse situazioni con il cofase il FQM cofase l'ac piuttosto che cofase il duo dove abbiamo una sostanza secca più alta oppure una concentrazione zuccherina molto alta andiamo con un cofase lescia e cofase stabile e l'age con 2 procediamo ecco prima parlavamo appunto della se vogliamo fragilità o comunque il sottile equilibrio dei lattobacilli che uno dice cavolo perché utilizzarli perché sono comunque molto delicati qui ci stanno dicendo che non possiamo usarli sempre allora in realtà i nostri partner hanno studiato anche delle innovazioni tecnologiche per poter comunque utilizzare al meglio quello che quelli che sono appunto i lattobacilli nel caso specifico stiamo parlando di cofase FQM cosa di innovazione tecnologica allora sono è composto da due ceppi di lattobacillus bucneri altamente selezionati per avere una resistenza allo stress osmotico molto alta quindi nel caso ci sia per dire una differenza molto alta di umidità all'esterno quindi di presenza di acqua all'esterno del batterio e sono altamente selezionati anche per poter lavorare in un range di temperatura molto ampio quindi non andare incontro a possibili inattivazioni nel caso ci sia un repentino cambio di temperatura per proteggere ulteriormente questi due ceppi sono stati addizionati con questa tecnologia ECPS che praticamente sono delle sostanze che formano uno strato di muco che va a coprire il batterio che lo proteggono ancora di più dagli impatti ambientali avversi e supportano l'assorbimento dei nutrienti e dell'umidità in maniera tale da ottimizzare la performance produttiva del batterio quindi abbiamo in realtà dei super batteri che vanno a produrre acido lattico a me viene in mente una considerazione di tipo pratico Francesco la trincea viene preparata adesso magari in questo periodo qua dei trinciati primaverini forse queste temperature così elevate non si verificano però pensando un pochettino più avanti ai trinciati che vengono raccolti d'estate si fa tutto bene si raccoglie il punto giusto il prodotto è quello giusto tutto fatto in maniera ineccepibile però c'è una temperatura magari elevatissima elevatissima quindi quando io vado a coprire poi il trinciato anche la parte sopra quella esposta al sole poi sotto al telone nei primi momenti penso che raggiunga temperature molto elevate e quindi avere un prodotto che si autoprotegge che crea uno scudo intorno a sé il prodotto intendo il batterio che crea uno scudo intorno a sé e lo protegge da questa avversità io penso che sia fondamentale e sia anche questo uno dei fattori da considerare perché in laboratorio i risultati sicuramente ci sono in vitro nella pratica bisogna scontrarsi con la realtà quindi questo è uno di quegli accorgimenti che ci permette di avere più certezze anche nella realtà quindi anche nell'utilizzo in campo assolutamente ok andiamo pure ecco questo è invece un altro prodotto che prima non abbiamo citato ma che diciamo che va a coprire appunto delle casistiche molto importanti e che hanno tra l'altro riguardato alcune zone d'Italia in particolar modo la scorsa primavera estate allora Cofasil Bio Ultra di particolare fondamentalmente che è un prodotto registrato per l'agricoltura biologica e si può utilizzare appunto come additivo per la conservazione degli insilati e dei balloni quindi andiamo ad avere un conservante di tipo chimico che però per la sua particolare formulazione e per la sua appunto registrazione a livello europeo può essere utilizzato anche nell'agricoltura biologica da qua il nome facilmente intuibile di Cofasil Bio ma la cosa le componenti fondamentali di questo prodotto sono fondamentalmente l'acido formico e il formiato di sodio che allora vanno a controllare i processi di fermentazione quindi lavorano su un abbassamento del pH molto importante e molto rapido che va ad impedire l'attività dei clostridi e quindi da questo punto di vista stiamo lavorando sul migliorare la qualità delle fermentazioni e migliorare la qualità della materia fondamentalmente del prodotto finale l'altra componente invece è l'acido propionico che invece agisce in modo sicuro ed efficiente contro muffe e lieviti queste componenti servono soprattutto anche per evitare quello che ho riportato volutamente in foto cioè la partenza di fermentazioni anomale che portano dopo alla disgrazia che purtroppo ogni tanto succede dell'autocombustione del ballone e che dopo porta appunto al rogo del fienile quindi in questo caso qua per dire specialmente su quei prodotti che hanno un indice di insillabilità magari non favorevole niente è saltata ancora la connessione di Francesco intanto che si riconnette lui stava parlando appunto della parte degli additivi chimici intanto mi aggancio anche alla domanda qua del signor Dascagno che dice in caso di elevata sostanza secca quale prodotto consigliate per evitare le muffe interne io non ho interrotto Francesco per evitare di disturbarlo nella sua presentazione però sicuramente da quello che ci ha detto dalle tabelle che ci ha mostrato per prodotti secchi quindi anche affienati in alcuni casi i prodotti ideali da utilizzare sono questi cofasil bio ultra piuttosto che cofasil stabil cioè additivi chimici che hanno una spiccata azione antifungina e antimuffa quindi contro muffe contro i lieviti e contro i funghi di conseguenza per evitare l'ammuffimento dei foraggi ad elevata sostanza secca tendiamo a consigliare questo tipo di prodotto tant'è che questi prodotti sono anche disponibili da utilizzare su delle particolari botti che anche noi forniamo da montare direttamente sulle rotopresse con assoluta tranquillità in quanto non sono assolutamente corrosivi proprio l'anno scorso durante un colloquio con un allevatore mi dice guarda ho appena comprato questa rotopressa bellissima una Fend nuova di zecca non so quanti migliaia di euro potesse costare 40 50 o forse più migliaia di euro e mi dice vorrei aggiungere un conservante sul fieno ecco in questo caso gli abbiamo proposto il cofacil stabil per evitare appunto fermentazione omule ammuffimento ma ad essere assolutamente sicuro che l'assortopressa non avesse danni perché questi prodotti sono assolutamente non corrosivi quindi possono essere utilizzati tranquillamente senza nessun problema mi pare che sia arrivato ancora Francesco se non sbaglio sono timato penserete che a treviso abbiamo la connessione del terzo mondo purtroppo salta sono sono imprevisti che capitano è il bello della diretta sono appunto bisogna anche notare che siamo in diretta non abbiamo registrato prima quindi siamo in diretta e può capitare qualsiasi cosa vabbè insomma non c'è nessun problema io stavo dicendo appunto visto che mi sono ricollegato a una domanda sempre del signor Ascanio che diceva quale prodotto utilizzare per evitare l'ammuffimento in prodotti quindi in prodotti affienati piuttosto che altri altri tipi di conservazione anche insilati ma ad elevata sostanza secca io ho consigliato di utilizzare gli addicini di tipo chimico tipo il cofacil bio ultra piuttosto che lo stabil con il regime si è sbagliato insomma penso no no perfettamente hai dato il consiglio sicuramente ottimale anche perché appunto il il cofacil stabil con la sua composizione di benzoato di sodio e sorbato di potassio è la soluzione ideale appunto per combattere lo sviluppo di muffe e di lieviti quindi andiamo appunto a evitare la appunto lo sviluppo di muffe e lieviti che dopo possono portare a un prodotto di scarsa qualità un prodotto finito di scarsa qualità assolutamente andiamo avanti con la presentazione procediamo sì certo ok bene quindi qual è fondamentalmente cioè come possiamo appunto migliorare allora cioè cosa porta una migliore qualità delle fermentazioni quindi perché ci siamo tanto concentrati a provare a capire qual è il prodotto ideale per migliorare la qualità delle fermentazioni fondamentalmente andiamo ad ottenere innanzitutto un prodotto altamente digeribile quindi andiamo a migliorare la digeribilità della fibra che andiamo appunto a somministrare alle nostre vacche la miglior qualità e quindi l'assenza fondamentalmente di sviluppo di fermentazioni che portano alla produzione di acido butirrico o anche in certi casi addirittura di alcol etilico porta ad avere una maggiore ingestione perché siamo riusciti a preservare nel modo migliore quella che è la qualità del prodotto iniziale e il tutto si traduce in una migliore performance quindi un prodotto di qualità più alta porta ad avere appunto una miglior produzione in termini di litri di latte quindi fondamentalmente un insilato piuttosto che appunto un fieno di qualità più alta è come mettere una benzina con un maggior numero di ottani nella nostra macchina la prestazione sarà sicuramente migliore qui con questa slide vediamo appunto quello che abbiamo già già un po' un po' anticipato con con la spiegazione di Giuseppe con la risposta appunto di Giuseppe del Co-Fase Stabile che è un prodotto appunto basato su sodio benzoato potessio sorbato che è ideale per appunto per l'inibizione dello sviluppo di muffe e lieviti specialmente sui fieni la la componente chimica appunto è stata studiata appositamente per penetrare nelle cellule fungine e ucciderle quindi evitando dopo le cattive fermentazioni e tutto quello che ci siamo già detti fondamentalmente di interessante come prodotto di interessante caratteristica del prodotto è che è un prodotto pronto all'uso che lo si può utilizzare in ragione di 1-2 litri per tonnellata e la sua particolare tecnologia e composizione permette anche di avere un utilizzo estremamente sicuro sicuro per l'operatore perché non non dà quell'effetto di lacrimazione occhi o il naso che pizzica perché è molto irritante e soprattutto molto sicuro per i macchinari che sappiamo benissimo quanto i nostri clienti ci tengano ai loro macchinari in quanto non è corrosivo ecco quindi qui possiamo vedere effettivamente quello che abbiamo accennato prima parlando del cofasil bio ultra di vedere cosa una appunto dei fattori che vogliamo assolutamente evitare cioè quello del fenomeno del surriscaldamento che sicuramente nelle vostre lunghe carriere di allevatori avete potuto vedere con i propri occhi almeno una volta il problema del surriscaldamento dato appunto dalle fermentazioni anomale che partono oltre ad essere pericoloso nel caso della gestione dei fenili è anche un problema perché va ad alterare quello che è il valore nutrizionale dopo del nostro insilato perché fondamentalmente per generare calore viene mangiato tra virgolette zucchero e mangiando lo zucchero è tutto zucchero in meno che noi andiamo a dare alle nostre vacche per cui la cosa fondamentale è quella appunto di tenere il fronte della trincea sempre il più fresco possibile appunto per ottenere e riuscire a mantenere soprattutto il livello di nutrienti il più alto possibile procediamo pure mi ripeto una cosa stai parlando di trincee di fronte di trincee forse lo dirai dopo forse ti ho interrotto in maniera ingiustificata però è venuto questo dubbio l'utilizzo di un additivo chimico quindi può essere consigliato per per essere spruzzato insomma essere spruzzato sul fronte della della trincea nel momento in cui viene desilato il prodotto quale tra questi additivi consiglieresti io ho esperienza ho esperienza con del popernato d'ammonio l'agio con 2 prodotto storico tecnozoo però forse anche uno di questi può essere adatto a questo tipo di impiego allora assolutamente l'utilizzo di un additivo chimico in questa situazione può essere necessario anche perché ricollegandoci a quello che ci siamo detti all'inizio fondamentalmente noi andiamo a fare un insilato provando a escludere appunto l'aria però una volta aperta la trincea ovviamente l'ingresso dell'aria c'è quindi un minimo di un minimo diciamo di fermentazioni possono ripartire succede è normale la cosa da poter utilizzare appunto da poter fare è appunto utilizzare prodotti come agio con 2 appunto abbiamo un acido propionico con del propionato d'ammonio piuttosto che anche lo stesso cofasi stabil si può utilizzare spruzzato sul fronte o spruzzato anche sulla parte quella di solito più soggetta a stress che è la parte del la parte alta della trincea quindi il cappello diciamo appunto per evitare che in quei punti di maggior stress dove come si può vedere anche dall'immagine qui c'è la maggior infiltrazione di aria possano partire fermentazioni anomale e magari mettere a rischio la la nostra parte della nostra trincea altra considerazione da fare molto importante è che ovviamente la la dimensione della trincea è molto importante che sia proporzionata a quello che è anche il consumo di di prodotto quotidiano appunto che si è proporzionato in maniera tale che l'avanzare quotidiano di quando si fa si si preleva l'insilato sia di circa quel famoso mezzo metro metro in maniera tale da avere sempre sempre del prodotto fresco da poter utilizzare e in questa maniera evitare non dare il tempo alle fermentazioni di partire sediamo pure ecco qui adesso abbiamo fatto un piccolo passo all'indietro però è una cosa che ci ci tenevo molto a sottolineare che il primo passo per evitare l'ingresso dell'ossigeno è appunto legato a quello che è la innanzitutto è la la pressione che andiamo ad imprimere sulla nostra massa insilata in maniera tale da appunto evitare l'ingresso o comunque che rimanga dell'ossigeno all'interno e dopo l'utilizzo in maniera corretta dei teli piuttosto che dei sacchetti dei pesi per la copertura della parte alta della trincea l'utilizzo corretto di questo tipo di prodotti ti permette di partire già da un buon punto perché comunque sei riuscito a togliere l'ossigeno dalla massa da conservare e quindi già lì si parte da un buon livello che dopo quindi già questo è un buon modo per ottenere un insilato diciamo di sufficiente qualità Francesco in questo momento brilleranno gli occhi al nostro product manager Cesare Amazon a proposito di questo argomento perché proprio lui si occupa in tecnozoo dell'aspetto imballaggi imballaggi che vanno dalle reti ai film tra la fasciatura la fasciatura che comunque è un insilamento sebbene in dimensioni più ridotte rispetto alla trincea e poi passano anche direttamente ai teli e alle coperture quindi proprio in questi giorni è impegnatissimo su tutto il territorio per la proposta di questo tipo di prodotto in quanto noi possiamo fornire anche quello i teli di produzione tedesca ad elevatissima impermeabilità l'ossigeno appunto per andare a salvaguardare quello che è l'ambiente anaerobico all'interno della trincea all'interno della massa da insilare e quindi permettere ai batteri di partire in maniera veloce e iniziare subito il processo di acidificazione quindi schiacciare bene e poi mettere i teli anche correttamente per mantenere l'ambiente anaerobico permettere ai batteri di svilupparsi vedendo questa immagine è venuta in mente proprio Cesare Amazon che è impegnato su questo fronte assolutamente era un assist che ti ho servito così sotto porta non potevi fallirlo no ecco vabbè qui ho portato come esempio quello che può essere nel caso dell'insilato di mais per dire lo sviluppo delle classiche muffe del Monascus Rubens piuttosto che del Penicillum Rockforti che sono appunto quelle situazioni che noi con l'utilizzo corretto delle nostre tecniche di insilamento l'utilizzo del giusto tipo di imballaggio e gli additivi che abbiamo appunto selezionato con un'attenta selezione al momento appunto della raccolta con queste tre componenti appena dette dovremo riuscire ad evitare appunto l'insorgenza di queste situazioni qui abbiamo un'ultima slide diciamo di riassuntiva su quelle che appunto sono le conseguenze del deterioramento aerobico quindi appunto gli effetti negativi sulla performance quindi cose che abbiamo visto prima quindi riduzione dell'ingestione minore digeribilità della fibra la perdita di produzione senza contare poi gli effetti negativi che si possono avere proprio sulla salute degli animali quindi disordini a livello riproduttivo rischio maggiore per dire di aborti piuttosto che ritenzione di placenta dati appunto dalle tossine che si vanno ad accumulare piuttosto che disordini metabolici o digestivi o la possibilità di avere un più alto indice di mastiti quindi con l'utilizzo del giusto additivo anche qua tutti questi problemi vengono comunque molto ridimensionati ecco questo è un ultimo consiglio appunto Giuseppe se vuoi dire te qualcosa riguardo questa situazione beh sì sicuramente perché è un è un problema che viene posto frequentemente no le vacche mangiano tutti i giorni hanno bisogno sempre di alimento però a volte cosa succede i fabbisogni delle vacche non sono rispettati dalla campagna quindi si trova a corto di di sino mais e quindi a volte c'è anche l'impazienza di aprire di aprire le fosse perché c'è bisogno di alimentare gli animali e gli altri foraggi non sono più sufficienti quindi la fretta di aprire è sempre è sempre un problema diffuso è noto visto che è un processo biologico comunque quello che deve avvenire quindi devono crescere dei batteri la natura dice che si vuole tot tempo qua è scritto otto settimane quindi difficilmente si può andare a modificare questi cicli si possono agevolare quindi nel caso in cui nascesse questo problema e quindi bisogna aprire la trincea io faccio la trincea fra un mese devo aprirla perché se no non so come cavarmela devo attingere troppo al mercato per andare a acquistare gli alimenti quindi voglio usare il mio tu che cosa che cosa consigli di fare se proprio questo dovesse accadere ammesso che non è la soluzione migliore però nel caso in cui dovesse accadere cosa facciamo usiamo un inoculo batterico un inoculo un additivo chimico cosa cosa consigli cosa ne pensi allora visto che comunque bisogna essere sempre previdenti su quelle che sono le possibili situazioni che ci troviamo a fronteggiare è una situazione che può e spesso succede che si presenti quindi se la trincea appunto è stata inoculata diciamo che le otto settimane appunto è il tempo per avere l'ottimale concentrazione di acido acetico prodotto dai nostri lattobacilli ma nel caso dobbiamo appunto aprirlo prima di queste otto settimane non è non è che non si può aprirlo si può aprire la trincea utilizzare la parte appunto di insilato che ci serve la raccomandazione è quella di magari fare una passata piuttosto con un additivo chimico perché allora l'additivo chimico ha un'azione immediata conservante in modo tale da poter preservare nel miglior modo possibile la trincea aperta precocemente grazie grazie francesco perché questo è un problema che presentano tanti allevatori sicuramente quest'anno si ripresenterà nuovamente quindi andando a riprendere le domande che avevamo fatto all'inizio chi ha ragione rispetto a quelle tre situazioni che si possono verificare non usare i fermenti usarli ma essere incerti o avere risultati eccellenti da quello che ci hai spiegato vediamo se qualcuno interviene a tal proposito però nessuno dice niente quindi faccio la mia considerazione io penso che abbiano ragione tutti e tre questi signori chi non lo usa chi lo usa ma non vede risultati così accettabili e chi invece è entusiasta dipende dall'esperienza che si è fatto e dal prodotto che ha utilizzato perché sicuramente se ha utilizzato il prodotto corretto è stato consigliato in maniera corretta i risultati ci saranno ci saranno se è stato utilizzato il prodotto sbagliato sulla matrice sbagliata sicuramente il risultato non ci sarà abbiamo visto che influenza la fermenticibilità degli alimenti l'umidità il tenore zuccherino la presenza di 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 aria quindi e la capacità tampone perché se andiamo a insilare un'america ricca di ammonica con elevata capacità tampone quindi con l'azoto che va a tamponare lì sarà fondamentale usare l'inoculo giusto perché è difficile insilare questo tipo di prodotto andare a insilare un pastone di mais o una matrice del elevato tenero a milaccio e quindi anche zuccherino diventa molto più semplice quindi ecco va utilizzato proprio il prodotto giusto per la matrice giusta con appunto prodotti facilmente insilabili si sbaglia meno ma su certi altri prodotti dove l'umidità è fondamentale una medica mi viene in mente o anche quei loietti quei loietti tetraploidi che si vendono in pianura padana che hanno delle grandissime produzioni magari sono preappassiti in maniera non ottimale quindi vengono insilati ad elevato tenero di umidità e poi alla fine sono conservati malissimo perché magari è utilizzato anche un prodotto sbagliato per la conservazione quindi in quel caso sicuramente l'allevatore dirà no non uso niente o l'ho usato e non ho avuto risultati ma lo sappiamo è stato sbagliato l'umidità iniziale magari il prodotto utilizzato per il trattamento era quello sbagliato quindi non adatto a quel tipo di umidità ecco era giusto per fare un minimo di risultato tu Francesco hai ancora qualcosa da dire? beh solo un'ultima considerazione riguardo a quello che è a quello che sono i diciamo i tuoi tre allevatori in partenza diciamo che quello che è ipercontento dell'utilizzo sì non abbiamo bisogno di convincerlo perché appunto ha capito i benefici che appunto che portano che porta all'utilizzo del corretto additivo per quanto riguarda gli altri due che sono un pelo più scettici a riguardo diciamo che possiamo aiutarli a prendere delle decisioni un pelo diciamo più avanzate facendo delle considerazioni nel senso che l'efficacia effettiva del corretto uso dell'additivo la si può effettivamente valutare anche con delle analisi di campo quindi con delle analisi di laboratorio di campioni di insilato piuttosto che del ballone raccolti e portati in laboratorio servizio tra l'altro che si può utilizzare in tecnozoo e in questa maniera l'allevatore più scettico può effettivamente avere un dato alla mano per poter fare delle considerazioni pratiche con dei numeri e quindi poter fare i conti corretti un'altra considerazione sì no scusami non volevo interromperti no no era l'ultima cosa che infatti l'altra considerazione da fare è che in determinate situazioni il corretto utilizzo dell'additivo è un po' come l'assicurazione cioè noi è come l'assicurazione della macchina fin tanto che che la paghi non succede niente tu dici sì è una spesa assolutamente però basta che tra virgolette tocchi quello davanti come può capitare ogni tanto e l'assicurazione in quei casi l'ati ha abbondantemente salvato per cui il discorso dell'utilizzo dell'additivo ti mette sicuramente al riparo da tante situazioni che in un secondo momento possono in realtà risultare ben più costose quindi magari conviene investire tra l'altro una cifra anche assolutamente abbordabile perché diciamo che ci aggiriamo attorno come il costo trattamento per durare con un inoculo batterico il costo è di un po' meno di un euro a tonnellata per cui il costo è veramente irrisorio se consideriamo però a tutti i benefici che ci porta ecco questa qua era la mia ultima considerazione sì è una considerazione che condivido pienamente perché è un ragionamento che abbiamo fatto anche oggi pomeriggio insieme insomma il costo è veramente molto molto basso rispetto al valore che noi andiamo ad insidare e le trincee di un silomais su grosse quantità hanno dei valori estremamente elevati di parecchie decine di miliardi di euro e noi parliamo di inoculi che valgono qualche migliaio di euro rispetto a una trincea di quelle più più grandi quindi veramente ha un impatto economico molto basso rispetto al beneficio che può dare e gli studi fatti da fior di università da aziende che si occupano solo di questo perché dobbiamo anche ricordare che Atcon ha un settore microbiologico che è attivo da tantissimi anni che si occupa esclusivamente di questo quindi che ci sia un vantaggio sull'utilizzo di questi prodotti è innegabile perché ci sono i dati che ne parlano e la cosa difficile è riuscire a misurarlo dove? Misurarlo in azienda perché abbiamo a che fare con delle masse grandissime difficilmente gestibili dal punto di vista della ricerca perché la ricerca la fa l'università la fanno i grossi centri di studio quindi da lì si riesce a fare si riescono ad ottenere dei dati in campo riusciamo a avere delle impressioni a meno che ecco una cosa interessante potrebbe essere pesare in entrata tutti i carri di un silomice per esempio e poi pesarli in uscita dopo la fermentazione cioè nel momento in cui viene somminizzato all'animale ci sono studi che ci avevano anche presentato mi pare Francesco e i colleghi di Atcon dove era evidente che trattando con dei batteri lattici la conservazione della sostanza secca la perdita di sostanza secca era molto inferiore quindi solo con quello il trattamento viene pagato poi ci sono tutti gli altri tutti gli altri benefici questi qua sono dati alla mano che possono essere a disposizione di chiunque anche anzi possiamo anche fornirli a chi ce li chiedesse privatamente nei giorni nei giorni prossimi quindi questi sono sono i dati è molto sempre molto difficile riuscire a vedere in campo perché fare una una prova di una trincea trattata e non trattata non è non è sempre semplice le variabili sono sono tantissime ecco quindi bisogna un po' studiare dedicare il tempo a leggere la bibliografia e sicuramente avremo dei dei riscontri positivi vediamo se c'è qualche qualche domanda niente ecco c'è qualcosa da aggiungere se no chiudiamo il collegamento Francesco io ti ringrazio tanto no io vi ho rubato anche anche più tempo di quello che c'eravamo prefissi però spero insomma di essere stato sufficientemente esaustivo nella spiegazione qui eventualmente ci sono i miei contatti se dovesse essere necessario qualche approfondimento o comunque potete sempre contattare i nostri agenti di zona che saranno sicuramente più che contenti di darvi la loro consulenza a riguardo ecco sì perché fondamentale è avere la consulenza di questi prodotti perché utilizzati in maniera sbagliata sicuramente non daranno il risultato ma utilizzati in maniera corretta vi assicuro che i risultati li danno e come se li danno benissimo ecco una cosa mi stavano ricordando prima di fare ancora un cenno al al mucol perché è quello strumento che vendiamo in Tecnosovo è una distribuzione in esclusiva per l'Italia che individua l'umento del parto sull'animale eccolo qua vediamo un po' se si vede ecco l'offerta del mucol è attivabile ancora fino al 31 di marzo quindi ci sono pochi giorni però gli strumenti che saranno attivati entro il 31 di marzo avranno un grosso vantaggio economico perché oltre al prezzo d'acquisto solitamente si richiede un canone annuale per il collegamento della sim che è all'interno del prodotto se uno attiva il il mucol entro la fine di marzo il canone del secondo anno è incluso nel prezzo d'acquisto iniziale quindi c'è un risparmio economico notevole era solo per ricordarlo visto che ci sono pochi giorni ne avevamo già parlato di questo strumento tempo fa chi non lo conosce è interessato ci contatti perché abbiamo tutte le informazioni da dare il prodotto irlandese che è veramente efficace perché l'ho testato io personalmente su alcuni allevamenti dove non arrivava proprio la notifica nel momento in cui la vacca stava per partorire quindi si è usato in maniera corretta anche questo è assolutamente efficace c'è questa c'è questa promozione io con questo chiuderei vediamo qua c'è Gianluca Cucolo che ci fa i complimenti ciao Gianluca ecco vi saluto e chiudo la diretta vi ringrazio tutti per la partecipazione adesso ogni mese ne faremo ne faremo una più le dirette che facciamo in stalla quindi se c'è qualcuno che vuole partecipare è sempre benvenuto basta che ci contatti e noi andiamo dove dove è lui non c'è nessun problema vi saluto tutti buona serata grazie a tutti buona serata grazie Francesco grazie mille ciao Giuseppe grazie a te ciao ciao